Si entra nel vivo anche ad Andria dell'edizione 2015 di Coco, dopo la straordinaria chermessa a Milano, ora anche ad Andria, anche i cittadini andriesi possono vivere questi due giorni molto intensi. Era giusto e doveroso che anche la città di Andria fosse praticamente interessata e coinvolta in questo evento, che per noi è di fondamentale importanza per la proposizione del territorio e di una delle eccellenze principali che è l'olio extravergine. Avere avuto Milano come palcoscenico e soprattutto un parterre di giornalisti specializzati, per noi è stato fondamentale per divulgare e rafforzare il contenuto del nostro messaggio. Andria si propone in alternativa invece con un altro evento importante, riteniamo noi, che è quello legato proprio all'utilizzo dell'olio extravergine come gelato. E avere la partecipazione, vedere la partecipazione di massi gelatai che si cimentano con la base in olio, per noi diventa fondamentale perché oltre a essere la capitale dell'olio extravergine, vogliamo diventare la capitale del gelato all'olio extravergine di Coratina. E credo che con questa prima edizione vogliamo lanciare questa nuova programmazione che auguriamo che possa avere un futuro ma soprattutto un incremento di partecipanti. L'unico rammarico è non aver avuto molti partecipanti di Andria, ma non disperiamo su questo perché credo che l'attenzione sarà adeguata anche perché i risultati si vedono. Il lavoro che è stato fatto oggi di questi massi gelatai che sono venuti non solo dalla regione Puglia ma anche fuori regione, per noi è già un buon inizio e questo ci rafforza nel concetto che dobbiamo proseguire per rafforzare l'immagine e soprattutto la proposizione. Il gusto va sposato con la salute. E sabato c'è il panino gourmet? Panino gourmet che noi abbiamo lanciato perché vogliamo creare l'alternativa al solito hamburger partendo dalle tradizioni del territorio. E il panino gourmet che sarà fatto con una base di carne muscisca insieme alla burrata, insieme all'olio extravergine, insieme al tortino al cioccolato, insieme all'aperolio per noi è fondamentale perché lanciamo anche un nuovo messaggio ai nostri concittadini ma a tutti i consumatori che saper mangiare è importante per garantirsi il benessere e soprattutto avere prospettive di salute più longeve.